Il latitante Matteo Messina Denaro è stato arrestato questa mattina a Palermo dai carabinieri del Ross dopo 30 anni di latitanza. Cappellino, cappotto di montone e occhiali da vista scuri. Era vestito così il superlatitante Matteo Messina Denaro quando è stato catturato nella clinica La Maddalena di Palermo. L'inchiesta che ha portato alla cattura del latitante di Castelvetrano è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e dal procuratore aggiunto Paolo Guido. Matteo Messina Denaro è stato arrestato all'interno della clinica privata La Maddalena di Palermo dove si recava da circa un anno sotto falso nome per sostenere delle cure in dei hospital. L'operazione è stata compiuta dagli uomini del raggruppamento speciale dei carabinieri di Palermo insieme al reparto del GIS e dei comandi territoriali. Figlio del vecchio capomafia di Castelvetrano, Ciccio, fedelissimo dei Corleonesi di Totorriina, Matteo Messina Denaro era latitante dal 13 giugno del 1993, quando in una lettera scritta alla fidanzata dell'epoca, Angela, dopo le stragi mafiose di Roma, Milano e Firenze, annunciò l'inizio della sua latitanza. «Sentirai parlare di me», le scrisse, «mi dipingeranno come un diavolo, ma sono tutte falsità». Descritto nel tempo dagli inquirenti come un latitante atipico, amante della lettura, della bella vita e delle auto di lusso, è considerato tra i più pericolosi al mondo, condannato all'ergastolo per decine di omicidi, tra i quali quello del piccolo Giuseppe Di Matteo, il figlio del pentito, strangolato e sciolto nell'acido dopo quasi due anni di prigionia. Per le stragi del 92 costate la vita ai giudici Falcone e Borsellino, oltre che per gli attentati del 93 a Milano, Firenze e Roma. Per il suo arresto, negli anni, sono stati impegnati centinaia di uomini delle forze dell'ordine, anche all'estero, in paesi come il Venezuela, l'Austria e la Spagna. Una latitanza durata 30 anni è terminata appunto questa mattina, quando i Carabinieri del Rosso lo hanno catturato alla clinica La Maddalena di Palermo e portato alla vicina caserma di San Lorenzo, per poi essere trasferito in una località segreta. Intanto non si sono fatte attendere le reazioni dal mondo della politica, con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ha espresso grandissima soddisfazione per un risultato storico nella lotta alla mafia. Anche il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, ha espresso le proprie congratulazioni agli inquirenti e la conferma che lo Stato c'è e che prima o poi tutti i mafiosi vengono assicurati alla giustizia. Oggi tutti i siciliani onesti devono festeggiare. Da domani sarà opportuna una riflessione, ha concluso il governatore siciliano, per capire come sia stato possibile che uno dei mafiosi più pericolosi sia rimasto in circolazione per più di 30 anni.